a quando si sta per chiamare della porso di lato c'è una tasca la ciavatta qua oggi eh? la ciavatta qua oggi grande non ho fatto il primo vieni 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 dopo c'è dei panini per tutti quelli che lavorano perché non lavorano? non fa l'amore non fa l'amore non lavora non fa l'amore mi sembra che anche se lavora l'amore potrà non lavora adesso andiamo a cambiarci il ciabatta non arriva qua non arriva 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 dice all'angolo rosso all'angolo blu canale grazie a tutti Grazie.